Revocati ufficialmente i blocchi al traffico previsti per lunedì e martedì prossimi, la regione fa dietro fronte in vista dell'arrivo del maltempo e convinta delle associazioni di categoria che esultano una decisione di buonsenso. Arrestato a Castelmaggiore dopo un inseguimento Vito Nicola Silvestri, autore dell'omicidio avvenuto alcuni giorni fa nel Foggiano. I carabinieri lo hanno bloccato dopo un tentativo di rapina fondamentale alla collaborazione dei cittadini. Proiettili e minacce contro un forno notturno del quartiere Porto. Il plico intercettato e sequestrato dalla polizia postale conteneva due vecchie cartucce arruginite. Gli autori sarebbero alcuni cittadini esasperati dagli schiamazzi del locale. E salva la Verlicchi, storica azienda di Zola Predosa che produce telai per moto. All'asta fallimentare è arrivata l'offerta d'acquisto per 1.600.000 euro da parte di una società di Pisa, la Donati SRL, che si è impegnata a mantenere la produzione. Arriva domani, secondo gli esperti, il primo vero assaggio dell'inverno. Temperature impicchiate con minime che arriveranno anche a 3-4 gradi sotto zero. Oggi intanto problemi e disagi, soprattutto in provincia, per il forte vento. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG Bologna. In apertura oggi un'ampia pagina delicata a traffico e inquinamento. Come già anticipato ieri sera, oggi sono stati revocati ufficialmente i blocchi straordinari al traffico che erano stati decisi alcuni giorni fa. Erano previsti per lunedì e martedì prossimi. Una decisione, quella dei blocchi, che aveva provocato molte polemiche, molte discussioni, soprattutto da parte delle associazioni di categoria dei commercianti. Perché erano blocchi? Si diceva che avrebbero potuto creare molti problemi, soprattutto nella settimana di Natale. Alla fine è arrivata la decisione della Regione, spinta soprattutto dal meteo, da un cambio previsto del tempo che, secondo gli esperti, dovrebbe cambiare. Già oggi c'è stato un forte vento e da domani dovrebbe arrivare una perturbazione molto forte. Ma, insomma, in sostanza, questi blocchi per il momento sono stati revocati. Ancora non è stata presa invece una decisione, rimangono confermati quindi invece i blocchi del giovedì di 29 dicembre e del 4 gennaio. Staremo a vedere che cosa succederà. Ne parliamo però subito con il nostro ospite di questa sera, il presidente di Ascom Commercio Bologna, Enrico Postacchini. Buongiorno, anzi, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Noi dicevamo, nel titolo esultano le associazioni dei commercianti, associazioni di categoria. Voi avevate detto già da tempo, questi blocchi sostanzialmente non hanno un senso, adesso sono stati revocati, ma ci voleva soltanto il maltempo per farlo. O è stato un po' un convincimento anche sulle pressioni arrivate proprio dalle vostre associazioni? No, al di là di tutto è una notizia che dà sollievo a tante categorie, ma a tanti lavoratori anche della logistica, dei trasporti. Io credo che la decisione sia una decisione di buon senso, come ho avuto già modo di dire, e al di là di quello che sono gli aspetti meteo, io credo che comunque la decisione avrebbe dovuto essere in qualche modo revocata. E ho anche detto, probabilmente se la settimana scorsa ci fossimo visti tutti insieme come è avvenuto oggi, la soluzione si sarebbe già trovata qualche giorno fa, evitando annunci che hanno creato apprensione, come sempre, d'ansia in tante categorie e in tanti cittadini. Diciamo che la decisione sta bene, così è anche logico spostarla la settimana dopo, per cui si contemplano le esigenze di chi ha, come l'amministrazione, le esigenze e l'emergenza di dare un segnale immediato, di fatto comunque non si penalizzano tante attività in questa settimana. Ecco, voi eravate preoccupati soprattutto perché questa è una settimana clou, a pochi giorni dal Natale si concentrano proprio gli ultimi acquisti natalizi, quindi potevano esserci dei problemi per i tanti negozi. La settimana decisiva è della settimana in cui ovviamente anche i trasporti su strada sono incrementati per le consegne natalizie di ogni genere, anche solo i prodotti alimentari, le estrenne, insomma c'è tutto un movimento che è legato alla settimana del Natale, ed è veramente anche la settimana risolutiva per la maggior parte delle attività, è quella che decide non solo il mese ma anche l'anno, per cui insomma ci sembrava davvero una forzatura inserire in questa settimana, con magari anche il rischio di ulteriori scioperi dovuti alla manovra, come in questi giorni dei mezzi pubblici, aggiungere problema a problema, insomma non è il caso di agire in questo modo, quindi abbiamo raccomandato calma e una certa programmazione, davanti a una sana programmazione, si trovano sempre gli accordi. Ecco Presidente, le politiche del Comune per ciò che riguarda il traffico sono sempre un po' un punto dolente, un punto di frizione tra la vostra associazione e Palazzo d'Accursio. Prima di proseguire farei vedere, guardiamo insieme con i nostri telespettatori, un servizio che riguarda proprio un sondaggio fatto tra i vostri associati, che riguarda appunto il comportamento, l'atteggiamento del Comune, dei confronti proprio dei provvedimenti sul traffico. Vediamo i dati e poi li commentiamo insieme. Oltre l'80% di loro ritiene che il mancato spegnimento di Sirio a Natale causerà un danno economico alle loro imprese per le mancate vendite natalizie. Oltre il 56% giudica negativa l'esperienza dei Tea Days e più del 73% esprime un giudizio negativo sulla politica della Giunta Merola per il centro storico di Bologna. Sono solo alcuni dei numeri emersi dal sondaggio effettuato da Ascom Bologna, presso 4.000 associati, ma dietro la freddezza dei numeri c'è un dato che preoccupa ancora di più la categoria. Tutto questo mette a repentaglio la tenuta di un intero settore economico che in città dà lavoro a 35.000 persone tra esercenti e dipendenti. Bisogna quindi prestare attenzione prima di liquidare la faccenda con la formuletta dell'interesse di bottega, perché in gioco c'è molto di più. E va detto che, sempre secondo il sondaggio, i commercianti non sono a favore dell'auto sempre e comunque. Anzi, oltre il 60% degli interpellati si è detto a favore delle pedonalizzazioni, non di quelle massicce ipotizzate dal Comune, che porterebbero ad una desertificazione senza ritorno e a un aumento del degrado che già preoccupa l'88% degli intervistati, ma di quelle per micro aree servite da parcheggi e raggiunte da mezzi pubblici. Questo permetterebbe di coniugare vivibilità, fruibilità e accessibilità. Le scelte fatte finora dalla Giunta, viene sottolineato dall'Associazione Commercianti, sono di pura impostazione ideologica e pur non togliendo dall'aria un solo microgrammo di PM10, come è ormai dimostrato, danneggiano un tessuto economico già messo a dura prova dalla crisi. Ma è riduttivo pensare che i risultati del sondaggio si risolvano in una critica alle decisioni di Palazzo d'Accursio, conclude il numero uno di Ascon Bologna Enrico Postacchini. Anzi, il punto di vista degli esercenti è frutto dell'esperienza sul campo, del monitoraggio dell'andamento delle vendite e dei fattori che le condizionano, e del continuo scambio di opinioni con i clienti, un patrimonio di conoscenza che una buona amministrazione deve capitalizzare e valorizzare. Questi dunque i risultati del sondaggio, continuiamo a parlarne con il nostro ospite di questa sera, Presidente di Ascom Enrico Postacchini. Dunque, Presidente, io faccio subito l'avvocato del diavolo. Alcuni dicono i commercianti si lamentano perché vorrebbero arrivare con la macchina davanti al negozio. Secondo questi risultati non è così, perché gran parte dei vostri associati sarebbe favorevole a una pedonalizzazione, però in maniera più strutturale, più programmata. Innanzitutto i commercianti non arrivano davanti al proprio negozio con l'auto, purtroppo sono costretti anche nel trasporto merci a parcheggiare molto lontano, ed è la categoria che sicuramente ha in mano meno permessi, questo l'abbiamo già verificato, quindi non abbiamo timore che vengano anche ridotti i permessi, perché di fatto le nostre categorie non li hanno. Devo dire che c'è una mala abitudine, ma che non è dei commercianti, e della clientela dei visitatori, che è quella di arrivare sempre il più vicino possibile alla zona di interesse. Ma questo non è un comportamento tipicamente italiano-bolognese, è una delle ragioni per cui in tutto il mondo gli studi dimostrano che le zone commerciali funzionano se sono servite da parcheggi capienti, efficienti, sicuri, in distanze che non vanno oltre i 400 metri dalle zone di interesse. Quindi nel momento in cui si fa un'analisi anche di un nuovo insediamento commerciale, la prima preoccupazione è la posizione, l'accessibilità, la mobilità e la comodità di parcheggio. Questa è la dimostrazione che anche il più grande centro commerciale naturale da Bologna che è il centro storico ha necessità di essere messo in queste condizioni. Quindi voi in sostanza tra i messaggi che lanciate alla Giunta Merola c'è questo, insomma prima pensiamo ai parcheggi e alla possibilità di arrivare appunto in centro, poi dopo si può tranquillamente ragionare insieme anche su una pedonalizzazione. Ma devo dire che potremmo anche trovare un punto d'accordo più facile per l'amministrazione, l'abbiamo già proposto, cioè dividere la città a spicchi e fare interventi per piccole aree di modo che non si crea anche con la cantierizzazione un disagio alla città. La grande pedonalizzazione che dovesse intervenire in modo drastico ovviamente paralizzerebbe tutto il tessuto anche al di fuori delle mura. Quello che si suggerisce è di fare interventi di arredo, di chiusura, di valorizzazione commerciale procedendo per aree, dando delle priorità e via via, come dire, soddisfando tutta la superficie raggera della nostra città e del nostro centro storico. Presidente, le chiedo un'ultimissima cosa, naturalmente anche il vostro settore risente della crisi come tutti, che cosa vi aspettate da questo Natale, da questo fine anno, da questa settimana, un recupero in extremis per ciò che riguarda proprio le vendite? Beh, devo dire, intanto ci aspettiamo questa settimana di lavorare bene, in serenità e comunque di poter garantire a tutti i nostri dipendenti le migliori condizioni possibili di lavoro, che siano pagate regolarmente le tredicesime, che i contributi siano onorati, queste sono le prime preoccupazioni di tutti i datori di lavoro e devo dire che ancora una volta abbiamo la sensazione che facciamo un po' tutto da soli, quindi non si può dire che ci siano state agevolazioni nei confronti di questo comparto che da sempre se la risolve da solo, però siamo abituati a farlo, il giorno che l'amministrazione in qualche modo condividesse un progetto e faccio solo una piccola postilla, pensi che ieri il Guardian ha diramato la decisione del governo inglese su Londra di intervenire con parcheggi per salvare il commercio, dove i problemi sono tutt'altro che i nostri, ci sono milioni di visitatori al giorno, io credo che queste siano dimostrazioni tangibili di come le amministrazioni debbano preoccuparsi del proprio mercato, perché la città senza mercato non sta in piedi da sola e viceversa, altrimenti sono agglomerati urbani o dormitori, la città ha bisogno della sua vivibilità commerciale, noi continuiamo su questa onda, devo dire che il questionario e l'esito ci danno la forza di motivare come sempre le nostre idee e avete visto i tre fattori che più preoccupano sono sempre sicurezza, degrado e carenza di infrastrutture e quindi di parcheggi. Benissimo, grazie a loro Enrico Postacchini per essere stato con noi, naturalmente questo è un tema davvero molto molto sentito da tutta la città e continueremo senz'altro a parlarne nel corso delle prossime edizioni del nostro giornale. Cambiamo argomento, ma non poi tanto, perché abbiamo sentito che i blocchi sono stati revocati a causa sostanzialmente delle condizioni meteo e dicono gli esperti, arriva l'inverno, arriverà da domani a domenica, intanto oggi ci sono stati diversi problemi per il vento forte, soprattutto sulla provincia. Vediamo il servizio di Giuseppe Piloni. Temperature in calo con freddo e vento, protagonisti questo fine settimana in Emilia-Romagna, queste le previsioni dei tecnici dell'ARPA. Per quanto riguarda le previsioni, ci aspettiamo per questa serata il passaggio di una perturbazione con venti anche forti e comunque già da domani, da oggi a sabato, vi saranno delle ampie schiarite con buone condizioni di visibilità. Le temperature minime sono previste in flessione e avremo anche delle gelatiche con valori attorno a meno un grado. Comunque come intervallo le minime sempre saranno completate a meno 1 e 3,4 gradi. Invece per quanto riguarda le massime, sarà un'infressione più sensibile sulla Romagna, dove avranno valore attorno ai 7 gradi e sulla regione sarà compresa tra i 7 e 13 gradi. Senta, se hai parlato di pioggia e neve, arriveranno? Da qualche deboli precipitazione sull'Appennino, qualche rovescio sta facendo, durante la notte interesserà anche le zone di pianura, specialmente il settore centro-orientale, però come neve solamente ci sono i più alti, insomma, potrebbe toccare qualcosina al Cimone, ma direi che per il momento la media in tenura è ancora di là da venire. Ha parlato di schiarite, cioè sarà bel tempo anche? Beh, sì, insomma qualche annuvolamento, comunque tra sabato e domenica, il sole lo vedremo, anche se sabato sarà giornata più favorevole, mentre domenica avremo un po' più di nuvolosità. Anche perché dal pomeriggio avremo qualche debole pioggia, debole regolare, ancora sulla fascia costiera e ancora possibilità di nevicare, però attorno ai 500-600 metri. Parliamo di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, sulla provinciale all'altezza di Calderara di Reno, nel Bolognese, dove erano in corso dei lavori sul manto stradale ed era stato attivato un senso unico alternato. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, un camioncino non avrebbe rispettato lo stop del senso unico ed avrebbe tamponato le tre auto ferme. Per fortuna nessuna grave conseguenza, anche se l'autista, un uomo di circa 50 anni che era a bordo di un altro camioncino, è rimasto ferito in maniera non grave, subito portato al maggiore per ulteriori controlli. Stiamo vedendo appunto le immagini girate nel primo pomeriggio sul posto, due mezzi dei vigili del fuoco e l'elicottero, oltre a una pattuglia di vigili urbani che hanno dovuto regolare la viabilità e le code che si sono formate dopo l'incidente, anche a causa della rimozione dei mezzi e del carico rovesciatosi sull'asfalto. La pagina sindacale lieto fine alla Verlicchi, la storica azienda di zona predosa. L'asta hanno giudicato ad un'azienda compratrice per i lavori e per i lavoratori si prospetta finalmente un futuro, il punto nel servizio di Simone Iannès. La Verlicchi è salva ed i lavoratori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo otto interminabili mesi di trattative. A rilevare il marchio storico dell'azienda produttrice di telai per moto con sede a Zola Predosa è stata la Donati SRL, una società della provincia di Pisa, che oggi ha concluso l'affare, aggiudicandosela all'asta fallimentare per 1.600.000 euro. L'udienza in programma questa mattina al Tribunale di Bologna è cominciata con un po' di ritardo ma si è conclusa in pochi minuti. Giusto il tempo di aprire la busta contenente l'unica offerta, ovvero quella dei fratelli Mauro e Stefano Donati. Poi subito l'aggiudicazione e contestualmente un fragoroso applauso con relativa stretta di mano tra i compratori ed un operaio. È stato questo l'ultimo capitolo della vertenza Verlicchi che andava avanti dallo scorso 15 aprile data in cui l'azienda aveva dichiarato il fallimento. Fondamentale per partecipare all'asta è stato il passaggio imprescindibile dell'accordo firmato in provincia con cui i Donati si sono impegnati a mantenere l'attività produttiva e ad assorbire almeno 90 dei 166 lavoratori della Verlicchi nei prossimi 3-4 anni. Previsto anche l'impegno delle istituzioni che metteranno in campo tutti i possibili strumenti volti alla ricollocazione dei 70 lavoratori non previsti nel piano industriale. Speriamo si possano creare presto le condizioni per dare una risposta occupazionale nella nuova azienda o nel territorio a tutti i lavoratori della ex Verlicchi, ha commentato Graziano Prantoni, assessore provinciale alle attività produttive che ha condotto le trattative sindacali. Soddisfazione anche per la decisione presa nell'intesa di mantenere la storica sede a Zola Predosa. Due cartucce arruginite, un messaggio manoscritto contro l'apertura notturna di un locale bolognese, il contenuto di un plico intercettato e sequestrato dalla Polizia Postale a Bologna nel centro meccanografico delle poste di via Zanardi. Il pacchetto era indirizzato alla sede del quartiere Porto in via dello Scalo. Gli agenti che hanno scoperto il contenuto durante un controllo hanno anche avviato le indagini per accertare il mittente. Dal messaggio si pensa a qualcuno residente nella zona dove si trova il locale, si tratta di un forno notturno nella primissima periferia della città. Il pacco non aveva potenzialità esplosiva, i due proiettili erano arrugginiti come se fossero residuati bellici. In seguimento da film a Castel Maggiore in provincia di Bologna, i carabinieri hanno arrestato Vito Nicola Silvestri, 30 anni, presunto responsabile dell'omicidio di Pasquale Santoro, il pregiudicato lunedì scorso ad Orta Nova nel Foggiano. Sentiamo. E' stato arrestato a Castel Maggiore il presunto responsabile dell'omicidio di Pasquale Santoro, il pregiudicato di 35 anni, ucciso lunedì scorso ad Orta Nova nel Foggiano, in un agguato compiuto nei pressi dell'autolavaggio dove la vittima lavorava. L'arrestato è un pregiudicato di 30 anni, Vito Nicola Silvestri, che dopo aver commesso l'agguato si è rifugiato a Bologna dove è stato arrestato dopo una rapina. E' stato individuato dopo alcuni giorni di appostamento e materialmente è stata attuata un'attività di osservazione, pedinamento e controllo che ha portato poi all'individuazione del soggetto e al suo pronto fermo nel momento in cui si è accorto di questa attività e di conseguenza ha tentato di allontanarsi. Quindi c'è stato un vero e proprio inseguimento? Sì, è stato un inseguimento, una corsa a piedi che ha portato a buoni frutti grazie anche innanzitutto all'attività, la sinergia tra tutti i militari operanti del comando provinciale e ovviamente alla prontezza di riflessi del personale. Una corsa a piedi nel centro di Castelmaggiore in orario comunque centrale, quindi di punta, quindi tra una macchina e l'altra a stare dietro al soggetto. Quindi non voleva arrendersi? Inizialmente probabilmente lui aveva da dubbi anche sul fatto che noi fossimo dei carabinieri perché comunque eravamo tutti quanti in abiti borghesi. Una volta che comunque ha sentito intimarsi i carabinieri lui si è fermato, comunque dopo questo inseguimento. Il Comune di Bologna ha continuato a rinnovare i pass auto handicap temporanei, cioè dovuti ad una disabilità momentanea come ad esempio quelle derivate da postumi traumatici o d'operatori malgrado da dieci anni la norma che consentiva il rinnovo sia stata modificata. È uno degli aspetti venuti alla luce nell'inchiesta della Procura di Bologna e della Polizia Municipale sui pass handicap che in un filone ha coinvolto anche giocatori del Bologna Calcio, un aspetto che comunque non è penalmente rilevante ma che ha messo in luce un'incongruenza amministrativa. La norma infatti è stata modificata da una decina d'anni nel senso che i permessi temporanei non possono essere rinnovati. Nel caso in cui la disabilità non sia conclusa si deve rifare la procedura dall'inizio. Peraltro i Comuni della provincia hanno applicato regolarmente la nuova norma, a Bologna invece si è continuato con il rinnovo automatico. Il Procuratore ha aggiunto Walter Giovannini, titolare dell'inchiesta, ha chiesto chiarimenti al municipio che gli ha forniti. A quanto pare il Comune ha spiegato che la procedura va riconsiderata. Noi ci fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Non andate via. Nuovo insieme dagli studi di ETG proseguiamo con il nostro giornale. Parliamo adesso di casa, in particolare di IMU e della nuova tassa che dovrebbe essere varata dal governo Monti. Che cosa cambierà soprattutto per i proprietari di abitazioni? Se ne parla questa sera a Daedalus. Sentiamo adesso uno stralcio dell'intervista realizzata da Francesco Spada al Presidente di Confabitare, Alberto Zanni. È chiaro che da sempre lì ci ha rappresentato l'entrata maggiore per le casse di tutti i comuni, quindi non solo di Bologna, ma di tutti i comuni d'Italia quando presentavano i bilanci consumtivi, appunto a fine anno lì c'era sempre la voce più importante nelle entrate, quindi questo si sa che i proprietari hanno sempre contribuito notevolmente a quella che è la vita amministrativa del Comune, anche se ritengo che non sia giusto perché è vero che i contribuenti sono chiamati a contribuire in proporzione a quelli che sono i propri redditi. In questo caso vengono tassati solo i proprietari e mentre i servizi vengono poi usufruiti da tutti perché anche l'inquilino può usufruire dei servizi erogati dall'amministrazione comunale che però vengono pagati in gran parte dalla proprietà. Torna la Befana dell'Associazione Gli Amici di Luca, come sempre con l'appoggio della Carisbo e di altre realtà cittadine dal 4 all'8 gennaio, tante le iniziative con il momento clou, ovviamente il giorno dell'Epifania quando i pazienti dimessi dalla Casa dei Risvegli, Luca De Nigris, porteranno in scena un spettacolo. Ma sentiamo i dettagli con Alessia Salvatori. Arriva la Befana degli Amici di Luca con Fulvio De Nigris in questa bella sala della Carisbo Banca, dietro di noi come vedete tanti bimbi. Allora un tour de force della Befana dal 4 all'8 gennaio, chiaramente momento clou il 6. Sì, è una quattordicesima edizione, è un grande momento per noi di solidarietà e anche molto giocoso perché la Befana è un momento giocoso. Noi saremo sotto le due torri con la CNA e poi saremo col calesse al Circolo di Mandianti Comunali e poi appunto i grandi clou al Cinema Teatro Galliere con lo spettacolo L'Apprendista Befana dove quest'anno i nostri ragazzi dimessi dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris faranno uno spettacolo. Sono protagonisti loro per cercare appunto di capire chi sarà l'apprendista Befana. Chi sarà? Questo è il mistero da vedere. Come procede la Casa dei Risvegli di Luca De Nigris? I risultati ci sono, siamo contenti però poi il lavoro va anche oltre al domicilio, noi ci stiamo impegnando molto. La Befana, Carla Stolfi, quest'anno pare sia un po' stanca. Avete chiesto ai bambini di trovare una sostituta? Beh bisogna rinnovare un po', ci sono tutte le selezioni, capito? È abbastanza impegnativo. Cosa devono aspettarsi i bimbi per questa epifania? Ma guarda, addirittura volevano che la Befana arrivasse con un disco volante, ma ho detto che non passava per le strade di Bologna, allora sarà impossibile atterrare. E allora bisognerà che si abituino anche loro a usare la scopa come faccio io. Per aiutare un po' la mamma in casa? Perché sì, sarebbe una bella cosa, sì sì. I genitori poi sono sempre felici, anche se sono un po' birichini, però se si può migliorare la produzione non guasta o sbaglia. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, ci vediamo tra pochissimo. Nuovamente insieme, un'ultima notizia prima di chiudere, musica e poesia. Domani pomeriggio nel Museo della Beata Vergine di San Luca, in piazza di Porta Saragozza 2, alle ore 18 infatti è in programma un recital di poesia e musica intitolato Elefanti nell'anima, con Saverio Gaggioli, Ludovico Bongini, Giampiero Bagni e Stefano Pedroni. Il recital vedrà la partecipazione anche del baritolo Alberto Passerini. L'ingresso è gratuito. Ed è tutto per questa edizione di ITG, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i programmi di ITV. Grazie a tutti.